Mercoledì notte si è vissuta una nuova tappa dell'operazione dell'antimafia di Napoli, denominata Polvere, partita a maggio con l'arresto di numerosi esponenti del clan Polverino, clan egemone nelle zone di Quarto e Marano. A finire in manette questa volta è stato Salvatore Liccardi, detto Pataniello, tra i pochi latitanti rimasti in circolazione, ritenuto esponente di spicco del clan. A tradirlo è stata l'esultanza per il gol di Cavani contro il Manchester City intorno alle 22.15 di mercoledì sera. Le urla di gioia hanno fatto scattare il blitz da parte dei carabinieri che avevano già circondato il cuovo nel quale si nascondiva. Il 37enne è stato trovato in un casolare in zona Pisani, al confine tra il comune Flegreo e Napoli. Con il Liccardi incollato davanti alla TV, anche un altro noto pregiudicato quartese di 34 anni, Luigi Carandente Tartaglia, alias Gigi Nauer. Vivandiere è tuttofare di Liccardi, per cui è scattata l'accusa di favoreggiamento. Pesantissime invece le accuse per Liccardi. Associazione a delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio, usura, estorsione, traffico e spaccio di stupefacenti, riciclaggio e reinvestimento di beni di provenienza illecita, oltre che porto abusivo di armi da sparo. Patanello non si era dunque allontanato da quarto, probabilmente per mantenere sotto controllo gli affari. A dare un grosso contributo alle indagini, che hanno poi condotto all'arresto di Liccardi, sarebbero stati i numerosi movimenti di Luigi Carandente Tartaglia, spesso in giro a compiere mansioni per conto del latitante. Mercoledì notte, la villetta isolata, scelta da Salvatore Riccardi, per la sua latitanza, era già circondata da ore, da numerosi militari, i quali hanno dovuto solo attendere il momento giusto per intervenire, che è coinciso proprio con il gol dell'attaccante azzurro. Una gioia dunque amara per i due malviventi.